è arrivato la guerra e noi siamo io e la mia famiglia siamo andati su a San Marino insieme altre abitavamo qua giù a un ghetto insieme al contadino col biroccio abbiamo caricato da quello che si poteva e siamo andati su a San Marino nel primo tempo ci siamo fermati nel rio di Corianino che abbiamo fatto un capanno con le canne con i bastoni siamo stati una settimana poi siamo partiti siamo andati su nella galleria di Santa Maria Maddalena mi sembra che si chiama e lì il mio povero babbo non riusciva a starci non poteva respirare e dopo siamo andati al borgo di San Marino poi dopo di lì è cominciato già a arrivare qualche granata siamo andati su sotto oggi del comune e siamo rimasti lì dove abbiamo lasciato il posto noi è rimasto i miei due zii due altre famiglie lì è arrivato una scarica di granate non so dal mare che è morto uno zio che la mia zia l'ha trovato nel trovare al cimitero nella camera mortuaria l'ha trovato tra i morti vedendo i pantaloni che sono suoi e l'altro zio ha avuto 42 schegge si è salvato ha vissuto diversi anni però con una schegge in testa che ogni tanto gli dava fastidio nella galleria eravamo pieni a dormire non avevo il materazzo io non avevamo noi il materazzo niente si dormiva sulla ghiaia il mangiare si faceva fuoco fuori si coceva quello che si poteva l'acqua si andava a qualche posto dove si poteva trovare lavarsi non si parlava per quei 20 giorni che siamo stati che l'acqua sul viso mi ricordo che non l'abbiamo mai operata e pieni di bidocchi siamo andati verso su di 5-6 di settembre siamo ritornati verso il 23-24 solo che anche San Marino non è stato piccolo eravamo ci parlavamo di 100.000 persone eravamo come le formiche intorno il burgo e San Marino il mio povero babbo aveva nascosto tutto gli indumenti nostri il grano siamo ritornati a casa abbiamo trovato tutto dove aveva seppelito nel primo di partire il poveretto ha seppelito anche la sveglia dentro un vaso da notte siamo andati a casa abbiamo trovato anche quello allora c'era anche un po' paura perché nel ritornare a San Marino abbiamo sempre cercato di camminare sulle strade non in campagna perché sapevamo che c'era in giro queste mine e qui ci siamo quando siamo arrivati io e mio fratello che abbiamo trovato al mezza casa ancora intera ci siamo abbracciati e c'era il letto dei miei genitori ci siamo buttati sul priviletto e un'altra parte era mezza scoperta e allora succede che io nel campo dove avevamo già lavorato facevo un fosso uno che sminava il campo aveva piovuto queste cassette di legno si erano gonfiate non la poteva aprire lui l'ha sbattuto su un olivo l'olivo è andato in aria e lui è andato in frontume come un bicchiere a buttarlo per terra la persona la guerra è una cosa molto chi l'ha vista chi l'ha provata è una cosa orenda è una cosa orenda